Ben trovati all'appuntamento con l'informazione di TRM H24. Iniziamo questa edizione con una notizia dell'ultima ora. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incendio appiccato da un migrante nel centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco a Brindisi. A confermarlo è la polizia. Secondo una prima ricostruzione, un ospite della stessa struttura avrebbe appiccato il rogo del quale è rimasto vittima il migrante, intossicato dal fumo mentre dormiva. E poi ancora il peschereccio incagliato sul fondale sabbioso in prossimità della spiaggia di Torreveneri in provincia di Lecce, riconducibile al flusso migratorio avvenuto in Sicilia lo scorso 20 novembre. Lo comunica la Guardia Costiera di Gallipoli che spiega che i migranti, 580 in totale, furono soccorsi in mare aperto e poi fatti sbarcare nei porti di Catania, Messina e Augusta. L'imbarcazione sarebbe stata poi trasportata dalla corrente fin sulle coste pugliesi. E siamo invece adesso a Foggia dove l'ex sindaco Franco Landella è stato rinviato a giudizio per l'inchiesta su un presunto giro di tangenti proprio nello stesso comune. Andranno a processo anche l'ex presidente del Consiglio Comunale, Leonardo Iaccarino, e altri 11 imputati il servizio. Tentata concussione, corruzione, peculato e tentata induzione in debita, istigazione alla corruzione. Sono questi capi d'accusa con cui andranno a processo l'ex sindaco di Foggia, Franco Landella, l'ex presidente del Consiglio Comunale, Leonardo Iaccarino, e altre 11 persone. Il rinvio a giudizio è stato deciso dalla GUP del Tribunale di Foggia, Maria Luisa Bencivenga. Gli imputati sono coinvolti in un presunto giro di tangenti al comune. Per loro il processo inizierà il prossimo 15 marzo. Nella stessa udienza hanno patteggiato la pena a un anno Davide Saurino e a un anno e tre mesi Marianna Tucci. Mentre sono stati prosciolti gli ex consiglieri comunali di maggioranza, Pasquale Rignanese, Lucio Ventura e Consalvo Di Pasqua. L'inchiesta, che si basa su intercettazioni e parziali ammissioni di alcuni indagati, ha portato il 30 aprile e il 22 maggio 2021 agli arresti di una mezza dozzina di persone tra carcere e domiciliari, compresi l'ex sindaco, l'ex presidente del Consiglio Comunale, alcuni consiglieri comunali e imprenditori. Al centro dell'indagine una serie di appalti per la pubblica illuminazione, progetti urbanistici, forniture e acquisti per regali a scopo privato di materiale vario pagato con i fondi in dotazione all'ex presidente del Consiglio Comunale. L'ex assessore al welfare della Regione Puglia, Salvatore Ruggeri, agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta su un presunto intreccio tra politica e sanità, potrà tornare a lavorare nella sua azienda per quattro giorni a settimana. A stabilirlo è stato il GUP di Lecce, Ruggeri accusato a vario titolo e con altre 22 persone di corruzione, abuso d'ufficio, traffico di influenze illecite e falso ideologico in atti pubblici. Tra gli indagati per i quali era stato chiesto il processo ci sono l'ex direttore generale dell'ASL di Lecce, Rodolfo Rollo, il sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, l'ex consigliere regionale ed ex sindaco di Otranto, Pier Paolo Carriddi, in carcere dal 9 settembre scorso insieme al fratello Luciano, nell'ambito di un'altra inchiesta giudiziaria. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 31 gennaio per le discussioni del PM delle difese e per la scelta dei riti. E siamo invece adesso a Bitonto, dove tre persone sono state arrestate con l'accusa di omicidio, occultamento di cadavere e porto illegale di armi, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Ascoltiamo il servizio. Sono accusati di omicidio, tentato omicidio, occultamento di cadavere e porto illegale di armi, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Per questo i carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno tratto in arresto tre persone. Si tratta di Giuseppe Di Giacomo Antonio, 33 anni, Salvatore Ficarelli, di 36, e Giosuè Perrelli, di 41 anni. A Di Giacomo Antonio, condannato in primo e secondo grado all'ergastolo, è stata infritta una pena a vent'anni di reclusione per i reati di omicidio, occultamento di cadavere, detenzione, porto illegale di armi e ricettazione in concorso, aggravati dal metodo mafioso. A Ficarelli la pena inflitta è di 19 anni e 4 mesi per i reati di omicidio e ricettazione, anche in questo caso aggravati dal metodo mafioso. Infine Perrelli dovrà scontare una pena di 17 anni di reclusione per i reati di omicidio, detenzione e porto illegale di armi. I fatti risalgono al 2007 e sono riconducibili al contrasto tra le due consorterie mafiose per il controllo del territorio e delle attività illeciti a Bitonto. In particolare i tre sono accusati del tentato omicidio di Domenico Conte, elemento apicale di uno dei gruppi criminali operanti sul territorio, del contestuale omicidio dell'affiliato al clan Conte, Vito Napoli, ed infine dell'omicidio con occultamento di cadavere di Giuseppe Dellino, autista del commando che ha ucciso Napoli e assassinato quindi dai suoi stessi sodali per paura che potesse collaborare con la giustizia. Le lunghe indagini hanno permesso nel 2013 di ritrovare il corpo di quest'ultimo in un pozzo nella frazione Palombaio di Bitonto. Il 41enne Perrelli, originario di Bari, è stato rintracciato dai carabinieri a Cassano delle Murge, dove da diversi giorni per sottrarsi alla cattura si era nascosto in un appartamento disabitato. Lo stesso nel corso della relativa perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola carica e con matricola a Brasa. E si è avvalso della facoltà di non rispondere il 56enne Angelo Di Lella, ex guardia giurata, arrestato venerdì con l'accusa di aver ucciso con tre colpi di pistola la moglie Giovanna Frino, una barista di 44 anni. Il delitto si è consumato nell'appartamento della Coppia ad Apricena, nel Foggiano. Questa mattina il GIP ha convalidato l'arresto e il 56enne resta così in carcere. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, venerdì mattina Di Lella e sua moglie, sposati da 20 anni, avrebbero avuto un litigio in cucina, quando il 56enne avrebbe impugnato una pistola calibro 9 e ferito a morte la donna. Subito dopo l'uomo si è barricato in casa e solo grazie alla mediazione di un maresciallo dei carabinieri si è consegnato ai militari. Per cercare di risalire al movente dell'omicidio i carabinieri stanno scavando nelle dinamiche e familiari della Coppia. E siamo adesso a Taranto, dove numerose aziende dell'indotto di Acciaierie d'Italia chiedono allo Stato risposte concrete e definitive per fronteggiare l'attuale situazione di crisi economica. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. Sono 16 le ditte dell'indotto dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia di Taranto che tramite i propri referenti hanno scritto ai presidenti delle commissioni finanze, ambiente e attività produttive di Camera e Senato per chiedere audizione. All'origine della richiesta la necessità di informare il Parlamento della situazione attuale in cui verte l'azienda, partecipata dallo Stato attraverso Invitalia e dal principale produttore di acciaio globale Ancelor Mittal, a causa dell'incremento del prezzo dell'energia e della generale congiuntura economica internazionale determinatasi a seguito del conflitto russo-ucraino. Un contesto critico in cui le aziende dell'indotto considerano urgente un supporto finanziario che consenta di superare le difficoltà e chiedono che il nuovo governo rispetti e faccia rispettare gli impegni presi da Invitalia, quando nel 2020 aveva promesso misure finanziarie speciali per 900 milioni di euro, più altri 700 milioni da reperire tramite garanzie minori. Intanto ieri in via Machiavelli, nel quartiere Tamburi di Taranto, la centralina dell'Arpa Puglia ha registrato un picco elevatissimo di benzene cancerogeno. A segnalarlo il presidente di Peace Link, Alessandro Marescotti, che ha precisato che il benzene è una sostanza tipica dell'ex acciaieria Ilva e chiede agli enti di controllo di dare risposte. Restiamo a Taranto con il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno la questione relativa al comparto 32, l'area vicina al nuovo polo ospedaliero San Cataldo. Si discute sull'opportunità o meno di dare il via libera a nuove costruzioni. Ascoltiamo le parole del Consigliere Comunale Massimo Battista. Spero che oggi si ponga fine alla questione comparto 32 e che l'amministrazione Melucci voti contro e che si tenga conto del redigente nuovo piano urbanistico generale e mi auguro che questa città si ricompatti perché questa città continua ad allungarsi. Noi dobbiamo fare in modo che il borgo e città vecchia tornano a ripopolarsi. Non ha senso continuare ad allungare, a costruire nuovi edifici perché Taranto in questo momento è una città che è svuotata, dove i giovani continuano ad andare via. Noi dobbiamo fare in modo che questa città continua a ripopolarsi, che i nostri giovani ritornano e ritornano nel borgo e nella città vecchia. Invece con questa proposta di Rebra qualcuno vuole fare in modo di far arrivare Taranto sotto San Giorgio. Non è possibile, il San Cataldo è lì, bastano le opere di urbanizzazione, basta andarsi a fare un giro all'ospedale Acquaviva e vedere che intorno non c'è nulla. Quindi l'ospedale San Cataldo, una volta avute tutte le opere di urbanizzazione, non ha senso costruire intorno. E a Castellaneta la terza edizione di Terre Nostre. L'appuntamento organizzato dal locale Lions Club insieme a Coldiretti Taranto e tante associazioni del territorio, che ha acceso i riflettori ancora una volta sul tema del cibo sintetico. Terza edizione di Castellaneta Terre Nostre, evento organizzato dall'avvocato Maria Terrusi, già assessore all'agricoltura in collaborazione con Lions Club di Castellaneta, Coldiretti Taranto e tante associazioni del territorio. L'evento, organizzato in particolare domenica 18 dicembre, ha previsto un ricchissimo programma, nel pomeriggio in particolare il convegno cibo sintetico, no grazie, siamo l'eccellenza dell'Italia, a cura di Coldiretti con importanti ospiti che hanno preso parte al momento. A seguire, la degustazione e la vendita di prodotti locali delle aziende del territorio. È una manifestazione che negli anni è cresciuta, che è diventata un po' entrata nel cuore dei castellanetani, siamo alla terza edizione e quest'anno l'ho realizzata in qualità di membro del Lions Club di Castellaneta, ma è stata organizzata in collaborazione con Coldiretti. Il cibo sintetico è qualcosa di creato in laboratorio, lo dice il nome. Il cibo naturale è qualcosa che viene tramandato da generazione in generazione, da quando l'uomo è nato ha mangiato cibo naturale. Per cui sono due concetti che già danno la dimostrazione pratica di quello che sta avvenendo. Qualcuno vuol monopolizzare il cibo, vuol crearlo all'interno di biodigestori, all'interno di un'industria e proporla poi a un consumatore propinando un percorso sulla sostenibilità, sul discorso che non ha impatto, sul discorso che è economico. Noi naturalmente non possiamo né uccidere le tradizioni, né uccidere la nostra cultura, né uccidere quello che è un territorio, perché nel momento in cui noi creiamo un competitor dell'agricoltura, di cui non sappiamo niente. Questo è qualcosa che oggi ci viene propinato sulla tavola senza aver avuto nessuna indagine conoscitiva o sufficiente. In verità il cibo sintetico è già arrivato sugli scaffali ed è già pronto ad arrivare sulle nostre tavole. Ecco, noi vogliamo dire no al cibo sintetico perché è un cibo non naturale e soprattutto perché vogliamo valorizzare e difendere la produzione agroalimentare italiana e del territorio tarantino. Durante l'intera giornata raccolti alcuni fondi e prodotti per sostenere il service solidale Lions aggiunge un posto a tavola, un'iniziativa nell'iniziativa che ha l'intento di dare concreto sostegno alle famiglie in difficoltà. Oltre 6 milioni di ettolitri di vino pugliese sono fermi nelle cantine. L'analisi è di Coldiretti regionale. Ascoltiamo. La guerra in Ucraina e l'inflazione blocca il vino pugliese, a dirlo è la Coldiretti regionale. Oltre 6,6 milioni di ettolitri di vino della campagna 2021 sono fermi nelle cantine pugliesi, si legge nella nota diffusa, a causa del rallentamento dei flussi verso i grandi canali di commercializzazione europei dovuto alla guerra in Ucraina e alla riduzione del potere di acquisto dei consumatori. Il dato emerge sulla base del report Cantina Italia dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole. Lo studio evidenzia inoltre che l'export agroalimentare regionale da gennaio a settembre 2022 ha segnato una crescita dell'8,7%. A pesare su questo dato positivo sono però gli aumenti dei costi di produzione diretti o indiretti a causa del caro energia. Nei vigneti si registrano infatti rincariche vanno dal più 170% dei concimi alla più 129% per il gasolio. Una bottiglia di vetro, spiega Coldiretti, costa fino al 50% in più rispetto allo scorso anno mentre il prezzo dei tappi è superato il 20% per quelli di sughero e addirittura il 40% per quelli di altri materiali. L'associazione evidenzia quindi la necessità di una stretta da parte della regione Puglia per abbassare le rese con una revisione dei disciplinari di produzione ma anche di una revisione delle deroghe sui massimali di produzione dei vigneti che coltivano uve generiche. Secondo Coldiretti occorre dare seguito alla pianificazione e alla regolamentazione di nuovi impianti con scelte varietali coerenti con le vocazioni dei territori e le potenzialità commerciali e dare anche il via al catasto vitivinicolo per avere una fotografia reale del settore in Puglia. E siamo adesso al bollettino relativo al Covid in Puglia dove oggi si registrano 420 nuovi casi di positività su 4.671 test effettuati per una incidenza del 9%, due le persone decedute. I nuovi casi di contagio sono così distribuiti. 110 in provincia di Bari, 26 nella provincia Bat, 48 in quella di Brindisi, 67 nel Foggiano, 117 nel Leccese, 44 in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 6 persone risultate positive in Puglia. Delle 17.144 persone attualmente positive, 277 sono ricoverate in area non critica, ieri 270 e 10 in terapia intensiva a fronte delle 12 di ieri. E adesso siamo a Bari dove si è tenuto un importante convegno relativo alle nuove tecniche di cura del tumore alla mammella, un incontro organizzato da Sanità Nova con il contributo non condizionante di Sigean e Gilead. Oggi a Bari parliamo di Breast Unit di tumore alla mammella in questo importante convegno Breast on Care, organizzato qui in Regione Puglia da Sanità Nova con il contributo non condizionante di Sigean e di Gilead. Di cosa parliamo quando parliamo di Breast Unit? Facciamo riferimento a delle unità operative presenti ormai su tutto quanto il territorio regionale che si occupano della corretta e rapida gestione della donna affetta dal tumore alla mammella. Le Breast Unit nella Regione Puglia sono una bella e consolidata realtà che ora state anche analizzando nei dettagli per l'accreditamento. Sono una realtà guida di tutto il resto della rete oncologica, lo sono ormai da maggio 2018 quando le abbiamo istituite e lo sono anche per le malattie non oncologiche perché in realtà sulle Breast Unit stiamo collaudando metodologie, modi di lavoro e anche modi di progettare e verificare la qualità. E anche sulle Breast Unit in qualche modo si partirà per la prima volta in Puglia con l'istituzione di quelli che sono i PROMS e i PREMS che sono per esempio degli strumenti per monitorare i risultati di salute dal punto di vista del paziente. La paziente quando scopre di avere un tumore della mammella nei centri di Breast Unit viene presa in carico e gestita da un team multidisciplinare. Il team multidisciplinare è l'elemento qualificante delle Breast Unit ed è il motivo per cui la paziente deve essere eseguita all'interno dei centri. Le decisioni che si prendono in un team multidisciplinare sono le decisioni di sicurezza e garanzia per la paziente. Non è più pensabile immaginare la patologia avanzata come una patologia senza scienza terapeutica. Abbiamo nuovi farmaci, abbiamo possibilità di far diventare la patologia avanzata una patologia cronica e questo vuol dire per noi dover dare assistenza per tanto tempo con nuovi farmaci, con effetti collaterali gestibili ma che dobbiamo imparare a conoscere. Diventa sempre più importante riflettere sul ruolo delle pazienti che diventano dei soggetti attivi di cura. Sì, oramai al giorno d'oggi la presenza del paziente esperto è un valore aggiunto non solo per portare avanti la voce delle altre donne ma soprattutto per essere presenti ai tavoli regionali di decisione. E ci spostiamo adesso a Matera dove l'istituto comprensivo Minozzi Feste e l'Associazione Quartiere La Nera hanno inaugurato questa mattina negli spazi della scuola la biblioteca aperta al quartiere. Guardiamo di cosa si tratta. Per l'Associazione di Quartiere La Nera che da un paio d'anni ha iniziato ad essere attiva nel quartiere questo costituisce un vero e proprio catalizzatore di comunità perché l'Associazione sta facendo un po' di progetti nel quartiere quindi è una sorta di tassello che si aggiunge ad un mosaico che noi intendiamo costruire per rendere questo quartiere più vivibile e più aperto a tutti poi non solo ai residenti del quartiere. Che tipologia di libri troviamo? Allora qui ci sono un po' tutti i libri della biblioteca della scuola ma ci proponiamo di farlo diventare un luogo in cui accogliere i libri del territorio l'importanza è quella anche di conoscere la realtà del territorio ci sono oggi per esempio c'è oggi Giannatelli Edizioni e quindi per noi sono un punto di riferimento importante. Quanti giorni alla settimana aperti al quartiere? Ora iniziamo in forma sperimentale un giorno a settimana il giovedì Quali orari? Dalle 15.30 alle 18.30 del giovedì sarà aperta al quartiere e anche all'intera città. L'idea di aprire questa bellissima biblioteca al territorio ovvero al quartiere è un sogno che la scuola nutre da tanti anni che finalmente siamo riusciti a realizzare. Finalmente si realizzeranno due principi importantissimi l'importanza del fare rete con il quartiere e la valorizzazione del nostro territorio e della nostra città. E un'importante iniziativa di solidarietà è stata presentata nella Sala Ianni del Comando della Polizia Locale di Bari. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Polizia Locale di Bari, Associazione Apleti, insieme per raccogliere fondi in occasione del periodo natalizio. Nella Sala Ianni del Comando della Municipale Barese è stata presentata l'iniziativa benefica per condividere con l'associazione attiva nel reparto di onco-ematologia pediatrica del Policlinico di Bari l'impegno solidale a favore dei più bisognosi. Questa iniziativa della Pliti è stata condivisa da subito dal corpo della Polizia Locale. La Pliti di Bari è un'associazione all'interno del reparto di onco-ematologia pediatrica del Policlinico di Bari ed è sostegno per le famiglie dei bambini che seguono le terapie. Noi abbiamo condiviso da quest'estate una serie di incontri sull'educazione stradale con l'associazione e poi anche questa iniziativa natalizia che ci è sembrato utile per dare un contributo tangibile all'associazione anche per tutto il lavoro che loro svolgono in favore delle famiglie e dei bambini che sono in terapia. L'iniziativa nasce dalla vicinanza del Comando dei Vigili Urbani di Bari e per questo ringrazio tutti, in particolare il comandante, perché già in altre situazioni ci sono stati vicini abbiamo fatto anche delle esperienze proprio in clinica e non co-ematologia pediatrica. Con il Natale ovviamente loro hanno subito aderito alla nostra iniziativa e con i fondi derivanti da questi piccoli kit natalizi possiamo realizzare i nostri progetti psicosociali. E un'altra iniziativa di solidarietà, questa volta da vetrana nel Tarantino, unisce le generazioni di anziani e i bambini. Questi ultimi hanno infatti realizzato e consegnato doni che hanno consegnato agli ospiti delle RSA del territorio. I nonni, i nostri compagni di banco, è il titolo dell'iniziativa promossa da una rete di associazioni di Avetrana nel Tarantino che ha coinvolto due generazioni opposte tra loro, gli anziani e i bambini. Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale Mario Morleo di Avetrana hanno infatti preparato i doni di affetto consegnati agli anziani della RSA Maria Immacolata di Marugio e Oasi e Residenze Sant'Antonio di Manduria. I doni sono stati personalizzati per ciascuno degli anziani destinatari. Le scatole infatti contenevano una letterina scritta apposta per ogni nonno o nonna, con tanto di nome e cognome. Dolcetti, sciarpe e peluche, questi doni che hanno accompagnato i messaggi di affetto dei bambini. Sensibilizziamo i bambini affinché il valore dei nonni venga riconosciuto e vada a crescere sempre nella loro esistenza, non come uno scarto ma come qualcosa di importante da tenere sempre da conto perché ci possono dare tantissimo. Per far crescere nel modo migliore i nostri ragazzi dobbiamo offrire un contesto in cui la collaborazione non sia soltanto predicata ma assolutamente praticata. Questo evento, questo progetto ha coinvolto tutto il nostro istituto a partire dalla scuola dell'infanzia sino alla scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa che ha coinvolto decine di bambini e delle rispettive famiglie è stata realizzata con lo scopo di favorire il dialogo e le relazioni tra due generazioni lontane tra loro e per aglietare il Natale degli anziani sogni nelle RSA. E anche Molfetta si veste a festa con il Natale delle meraviglie arte e cultura in omaggio a Caravaggio. Ascoltiamo. Il grande Michelangelo Mirisi da Caravaggio rivive nell'arte grazie all'arte. Accade a Molfetta nell'ambito dello spettacolo la conversione di un cavallo con 23 quadri viventi che riproducono i capolavori del maestro di luci e ombre. 23 tele di Caravaggio, colui che ci ha insegnato che cos'è l'ombra in realtà ci ha detto che cos'è la luce e da dove essa viene. Le artisti riproducono sotto gli occhi degli spettatori le tele di Caravaggio con l'aiuto di oggetti di scena e drappi generando un grande impatto emotivo e una suggestiva forza scenica. Abbiamo creduto subito in questa performance e eccoci in cattedrale a mettere insieme arte nell'arte nella nostra bellissima cattedrale dove ci sono le tele di Corrado Giacquinto ecco gli spettatori vedono le composizioni artistiche eseguite da nuovi attori che compongono i dipinti del Caravaggio. Un grande Natale per Molfetta, tra arte e tanta musica la città è pronta a festeggiare il periodo più atteso dell'anno. Questo è un Natale ricco, ricco per riprenderci dalle inerzie e dalle obbligatorie chiusure della pandemia. È un Natale fatto con tante iniziative con l'intenzione di riprenderci le piazze, le strade, le nostre chiese, i luoghi di incontri. La manifestazione in programma è un'ottima occasione per il rilancio dell'economia della città. Abbiamo messo su un grandissimo calendario con tantissime attività che hanno compreso bambini, famiglie e questa è una delle manifestazioni più importanti. Abbiamo fatto sì che a Molfetta arrivasse il tableau vivant che rappresenta appunto i dipinti di Caravaggio fatto da esseri umani. è una visione meravigliosa che non fa che far diventare ancora di più il Molfetta sempre più grande insomma e i commercianti saranno contenti di questa manifestazione. E a Matera la presentazione del volume L'ostinata certezza della rinascita dedicato ai festeggiamenti in onore della Madonna della Bruna organizzati durante la pandemia da Covid-19. Tutti i dettagli nel servizio. Presentato a Matera il volume L'ostinata certezza della rinascita che raccoglie le immagini dell'allestimento realizzato dall'Associazione Maria Santissima della Bruna da luglio a ottobre 2021 a pieno terra del Museo Ridola. Un'iniziativa culturale che insieme alle altre attivate nel 2021 ebbe come scopo quello di far partecipare la cittadinanza alla ricorrenza del 2 luglio in forma alternativa a quella tradizionale vietata a causa della pandemia da Covid-19. Era importante mostrare questo lavoro perché è un lavoro che è stato creato dai cittadini materani. C'è stato molto coinvolgimento da parte dei cittadini materani che ci hanno prestato non solo i pezzi di vette dai carri o le fotografie d'epoca o le fotografie dei vari costruttori dei carri che abbiamo esposto in quell'occasione alla mostra ma ci hanno fornito anche altri elementi lo so, gli scudisci, gli abiti dei cavalieri e persino miniature di carri che andavano da pochi centimetri a poco più di un metro. In questa maniera abbiamo potuto lanciare un messaggio molto importante che spiega uno dei tanti significati del carri della Bruna che esprime quell'aspetto esistenziale che è dato da permanenza e temporaneità. Cioè il carri della Bruna è sempre presente ogni anno però sembra che a un certo punto si perda che si disperda perché viene distrutto e invece no, quell'elemento di distruzione non è altro che conferire una nuova energia per costruire il nuovo. Ecco perché il materano a fine festa dice di meglio in meglio l'anno prossimo. Sta a significare che il materano è sempre alla ricerca di qualcosa di sublime, di superiore ed è questo l'insegnamento che ci offre il caro della Bruna quello di perseguire sempre la bellezza perché la ricerca della bellezza è quella che costituisce la cultura. E in chiusura siamo allo sport con il baricalcio che ha fatto incetta di premi all'undicesima edizione dell'Italian Sport Award. I biancorossi hanno conquistato nove riconoscimenti per la stagione 2021-2022 culminata con la promozione in Serie B. La formazione biancorossa è stata infatti scelta da una giuria di addetti ai lavori quale miglior club del girone C di Serie C e Luigi De Laurentiis quale miglior presidente. Premiati anche il DS Ciro Polito, l'allenatore Michele Mignani e i giocatori Frattali Pucino e Cheddira. Al club biancorosso anche il premio per il miglior progetto strategia marketing e per la miglior tifoseria del girone meridionale. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale.